Sono iniziati i lavori di restauro della Fiumara d'Arte, il più grande parco di sculture monumentali d'Europa, ideato e realizzato nel 1986 nel comprensorio di Tusa dal mecenate Antonio Presti. Il restauro del parco, che presenta le opere di alcuni tre più grandi artisti del Novecento, come Mauro Staccioli, Tano Festa, Pietro Consagra, Italo Lanfredini e Paolo Schiavocampo, restituirà bellezza alle sculture monumentali che versavano in uno stato di degrado e di abbandono. La direzione artistica del restauro è affidata allo stesso Presti e i lavori termineranno nell'ottobre 2015. Per sette delle otto installazioni, firmate da alcuni tra i più grandi artisti contemporanei che recavano visibili danni prodotti dal tempo e dagli agenti atmosferici, è finalmente giunto il tempo del restyling. Tra le prime ad essere recuperate è la finestra sul mare di Tano Festa, la materia poteva non esserci di Pietro Consagra e una curva gettata alle spalle del tempo di Paolo Schiavocampo. Il progetto di restauro finanziato con fondi europei dovrà essere concluso in autunno, ma già da questi mesi sono più visibili gli interventi che stanno riportando alla luce le sculture, consolidate, restaurate e ripristinate nelle parti mancanti. Verranno attuati interventi di conservazione per un'opera d'arte storicizzata come quelle di Tano Festa, Pietro Dorazio e Pietro Consagra e si uniscono conservazione e trasformazione se l'artista è ancora vivente, come nel caso di Paolo Schiavocampo, Mauro Staccioli o Italo Lanfredini. In accordo con l'Accademia di Belle Arti di Palermo è prevista l'apertura di campus didattici e laboratori sul posto delle stesse opere. I fondi assegnati al Consorzio Intercomunale Valle della Lesa per il restauro e l'implementazione di Fiumara d'Arte, di cui fanno parte i comuni di Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Santo Stefano di Gamastra e Tusa, prevengono da un POFERS del 2007-2013 per un importo di circa 1.650.000 euro, che diventeranno 2.300.000 euro con i costi di progettazione, consulenze artistiche, spropri, produzione, pubblicazioni scientifiche, attività di divulgazione e promozione. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la recogge SRL di Paternò. L'unica opera che non sarà restaurata è la stanza di barca d'oro dell'artista giapponese Hidetoshi Nagasawa, camera ipogea, chiusa per cento anni per volontà dello stesso artista.